C'era una volta un giardino pubblico abbandonato, frequentato anche da malintenzionati, borseggiatori, pusher. La parrocchia ha chiesto di gestirlo, la vera chiesa in uscita, senza se e senza ma. Sì, funziona un po' da presidio sociale, quello che tanto viene decantato da chi dice di occuparsi delle periferie. Noi che viviamo in periferia ci autofacciamo il nostro presidio sociale, cominciando a tenere pulito, a tenere in ordine degli spazi che poi sono al servizio di tutti. Spazi verdi dietro Corso Grosseto, Torino Nord, Borgo Vittoria. La malinconia e la paura lasciano il posto al vociare sereno e la città di chi crede che scommette e vince. Perché riprendersi così uno spazio verde e pubblico? Vuol dire anche acquisire quelle competenze di senso civico e anche di protezione del proprio territorio. Un pezzettino, una goccia nel mare che però se unita a tante altre gocce possono dare e fare la differenza. La chiesa è quella di San Giuseppe Caffasso, padre dei Santi Sociali, che diceva ai preti di ascoltare le voci della strada. Abbiamo piantato le piantine e invece quest'anno abbiamo curato le piantine quelle che si stavano ammalando. Sto avvicinando l'inverno quindi lì dobbiamo mettere la paglia che se no muoiono. Qui sono voci che ora fanno casa e c'è anche una scuola paritaria che alimenta la rinascita della vita.